Eccolo! Ecco i famosi alberi di mano, che andremo presto ad adagiare nella ventola. Cosa? Questi bei gamberoni, adesso metto un po' più di salsa, un po' più fannare, così almeno... Ecco qua. Guarda, vieni, qui ho aggiunto delle bruschette dove vado a mettere i gamberi. Ok? Qui lo metto nell'altra. Ecco qua. Qua, questo ve lo metto un altro, un po' più a te. Ok, fino a qui ci stiamo, eh? Qui ho fatto una piccola mandragata. Allora, prendiamo adesso, ecco qua, guarda, mettiamo la salsetta sopra. La bruschetta va passata con l'alba, guarda, guarda. Ok. A me piace, gustavita. Bene. Un po' di cottura, sempre. Ok. Il piatto non è finito, aspetta. Poi ci metto un po' di emulsione, ma lo vieni alla Livornese con le vongole e te la metto qua. Così l'assaggio il foglio e gambero che prendi, in poche parole, ci metti vicino l'emulsione. Ok. L'emulsione. Ok. Ho fatto un tritato di menta, basilico e altre erbe e lo metti lì qua. Ok. E questo è l'antipastino di stasera, guarda. Wow. Ok. Ecco qua, puoi chiudere. Ok. Ok.